Conti? Speri gli accompagnatori che stanno spogliandoci. Andiamo ragazzi! Henry dove sei? Henry! Dai che ti sto aspettando! Maestro Jedi! Anche perché l'unico pezzo da superare era quello perché qua è un po' peggio. Ah bene! Adesso guarda, non c'è nessuno di qua. Però lì si poteva passare, qua no. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno.